Ciao amici value investor, ho già detto in altri video che per me Alibaba è un'azienda con un potenziale enorme ma gestita male. L'ho detto in altri video e anche diverse volte nel circolo dei value investor, ma quando sono gli stessi co-founder dell'azienda ad ammetterlo, quello che era un presentimento diventa una certezza, e cioè Alibaba è stata gestita male negli ultimi anni e non ci sono dubbi, perché a dichiararlo è stato Joseph Tsai, uno dei co-fondatori di Alibaba e attuale presidente dell'azienda, e lo ha fatto in una bellissima intervista di 10 giorni fa che ha realizzato più di 60.000 visualizzazioni, e vi lascio il link in descrizione perché vi consiglio di guardarla anche se non siete investitori in Alibaba, e in più 2-3 giorni fa è arrivata anche una lettera ai dipendenti di Alibaba da parte di Jack Ma in persona, che conferma quanto detto da Joseph Tsai, ma soprattutto è una lettera da leader, cioè scritta con lo scopo di tirare su il morale del team e indicare la retta via. E questa lettera si aggancia proprio all'intervista di Joseph Tsai, e Jack dice che è molto grato a Joseph di aver ammesso in Mondovisione che sono stati commessi degli errori, è stato un gesto di grande coraggio e responsabilità, dice, e che non bisogna aver paura di ammettere i propri errori, ma aver paura di non riconoscerli, di non ammetterli e quindi di non poterli correggere. E dice che il team di Alibaba è sulla strada giusta per correggere questi errori, perché quando un anno fa Jack si è incontrato con il management, ha radunato le truppe, insomma, gli ha detto bisogna fare qualcosa perché stiamo percorrendo la strada sbagliata, Alibaba ha iniziato una fase di ristrutturazione importante. Hanno mandato via Daniel Zhang, il vecchio CEO, e hanno inserito nel top management due co-founder, Joseph Tsai ed Eddie Wu, l'attuale CEO. Hanno diviso il gruppo in sei aziende diverse e stanno chiudendo molte attività poco redditizie in nome dell'efficienza dell'utilizzo del capitale. E Jack dice che ora l'obiettivo di quest'anno non è rincorrere i KPI, le principali metriche aziendali, ma tornare ad essere un'azienda customer centric, cioè orientata a creare valore per l'utente. Non guardare i KPI per me vuol dire una cosa, che gli effetti benefici di queste riforme non si vedranno subito nei bilanci, cioè che non dobbiamo aspettarci subito un aumento dei profitti, dei margini, perché ci saranno investimenti da fare, come sta succedendo ad esempio nell'international business e nella logistica. Però sono investimenti necessari per riportare Alibaba nella fase growth. Quindi forse non dobbiamo aspettarci un'importante crescita dei margini già subito, ma io vorrei vedere almeno dei segnali di accelerazione della top line, cioè delle revenue, è questo che mi aspetto. Perché come abbiamo anche detto in qualche altro video, Alibaba è andato incontro ad un problema che affligge quasi tutte le aziende quando diventano velocemente gigantesche, e cioè che diventano troppo burocratiche, lente, macchinose, inefficienti, e cercando di soddisfare continuamente, trimestre dopo trimestre, le metriche aziendali, soprattutto quelle attese da Wall Street, finiscono per perdere di vista la loro missione, che deve essere legata a creare valore per il cliente. E questi sono problemi che hanno afflitto di recente, ad esempio anche Meta nel 2021-2022, e probabilmente stanno affliggendo oggi Alphabet. E quindi Jack continua la sua lettera dicendo che dall'e-commerce ad Alipay, ad Alicloud, eccetera, dobbiamo rinnovarci, non per fare più profitti, ma per sopravvivere in quest'era di rapidi cambiamenti. Ora vi direte, come non fare più profitti? Il ragionamento di Jack è simile a quello di altri grandi CEO come Bezos, Jobs e tanti altri, e c'è che il focus deve essere sempre sull'essere innovativi, su dare soluzioni innovativi ai clienti, e i profitti poi arriveranno di conseguenza. Ma focalizzarsi sui profitti spesso porta a prendere decisioni di breve che non sono l'ideale per il lungo termine, perché non sono l'ideale per rendere l'esperienza del cliente unica. Se ci pensate, infatti, Amazon di recente ha sacrificato completamente la profittabilità per un periodo di tempo per focalizzarsi sul lungo termine. Ora non sto dicendo, aspettiamoci, che Alibaba diventi non profittevole, sto solo dicendo che l'obiettivo è quello di tornare a vincere la sfida competitiva e per farlo bisognerà rinunciare a dei risultati di breve. E poi Jack nella lettera dice che il mercato dell'e-commerce tra tre anni sarà cambiato completamente da come oggi, perché l'era dell'intelligenza artificiale è solo agli inizi, ma quello che conta non è chi saranno i nostri competitor tra tre anni, ma come avremo migliorato l'esperienza del cliente. Quindi Jack crede che l'intelligenza artificiale sia la chiave per innovare e creare un'esperienza migliore per il cliente e sarà il focus sul cliente, il driver di ogni scelta strategica dell'azienda. Ma questa ristrutturazione, dice Jack, non sarà facile, perché cambiare, innovarsi richiede sacrifici. E visto che si rivolge ai dipendenti di Alibaba quando dice questo, la mia lettura è che Jack avvisa che ci potrebbero essere dei licenziamenti, un po' come è successo con Meta, dove il numero di team e di membri per ogni team è stato ridotto drasticamente per essere più efficienti, veloci e responsabilizzare maggiormente le persone. Conclude poi dicendo che la strada sarà lunga, ma tutto questo sarà necessario per far tornare Alibaba ad essere un'azienda con un futuro vibrante. Allora, come dagli torto? Cioè, l'era di Daniel Zhang è stata la peggiore della storia per Alibaba? È vero che l'azienda ha dovuto affrontare sfide esterne come lockdown, problemi di supply chain, rallentamento dell'economia cinese, regolamentazioni, eccetera. Infatti, anche altre aziende come JD, Baidu, Tencent hanno rallentato in maniera vistosa in questo periodo, ma è anche vero che Alibaba ha perso di mira la sua vision, consentire agli utenti di fare business facilmente e ovunque nel mondo. È diventata poco innovativa e proattiva e quindi altre aziende che lo erano di più come Pinduoduo e Dowin le hanno rubato una bella fetta della torta. Ma la buona notizia è che sanno di aver sbagliato e un'altra cosa positiva è che, alla fine, anche se Jack non è ufficialmente nel top management di Alibaba, alla fine è come se lo fosse. È chiaro questo. Lo si evince dai suoi interventi, dichiarazioni, lettere, che comunque lui ha ancora tanto peso sulla strategia di Alibaba e rimane sempre il leader di questa azienda, colui che è in grado di ispirare il team e indicargli la retta via. Sembrerebbe quasi che abbia voglia di ritornare in Alibaba come CEO, visto che di recente si sta facendo sentire sempre di più. Ma è anche vero che ora che ha avviato una startup nell'agri-tech è molto difficile che possa ritornare ad essere operativo in Alibaba, ma magari chissà, vedremo. Comunque, per riassumere, sanno bene i manager cosa non va in Alibaba e questa è la cosa più importante perché riconoscere i propri errori, ammetterli, è il primo step per migliorare e questo non è scontato perché ci sono tante aziende che non lo fanno e continuano per anni ad incolpare la situazione macroeconomica, la situazione geopolitica, le normative del mercato, i governi che non proteggono le produzioni nazionali, eccetera, fin quando poi queste aziende falliscono. Ecco perché nel gruppo Discord del Circolo dei Value Investors abbiamo creato il confessionale, un luogo dove possiamo ammettere in tutta serenità i nostri errori da investitori e lo possiamo fare apertamente e serenamente visto che si è creata una bella atmosfera del gruppo di cooperazione, fiducia e rispetto reciproco. E questo è il primo step per migliorare come investitore, sapere quando e perché abbiamo sbagliato in passato e ovviamente io sono stato il primo a confessarmi nel gruppo appena è stata aperta questa sezione e sicuramente farò altre confessioni nel corso del tempo e se volete confessarvi anche voi potete entrare nel gruppo sostenendo il canale con una piccola donazione su Patreon e avrete accesso al gruppo su Discord. Link in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate di Alibaba se secondo voi sono sulla strada giusta per tornare a crescere ad ottimi ritmi un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide.